Quest'anno ho iniziato a fare dei corsi online, ma che non sono in diretta, in quanto sono registrati da me con degli apparecchi molto specifici mentre dipingo e parlo anche mentre insegno a dipingere quel dettaglio, insegno tutto quello che riguarda la tecnica pittorica. E per fare questo c'è bisogno di un lungo lavoro fatto bene che sia necessario per far capire anche ai miei allievi come si impara a dipingere in maniera classica o in maniera imperialista un'opera. Quindi facendo questo percorso io inizio proprio dalla tecnica delle velature che è quella del rinascimento e spiego man mano come si sviluppa un ritratto, una natura morta o un paesaggio o qualsiasi tipo di soggetto che mi viene voglia di realizzare. In questo periodo ho iniziato vari corsi con dei quadri imperialisti. Uno è un ritratto, uno è una natura morta con un limone e un altro riguarda lo studio delle trasparenze del vetro ma c'è un fiore anche. Quindi questi sono i tre corsi online che io sto facendo in questo periodo per insegnare la tecnica imperialista e la pittura classica a velature. Per illustrarvi un attimo la tecnica della velatura della pittura d'olio è una tecnica che deriva dal 1400 quando è nata nelle Fiandre. Quando un pittore chiamato Van Eyck era venuto qui in Italia a conoscere la bottega del Verrocchio dove anche un giovane Leonardo era il primo allievo di questa bottega. Quando Van Eyck venne a conoscere la bottega del Verrocchio e approfondire la tecnica artistica si confrontò con Leonardo da Vinci che essendo così giovane aveva provato a sperimentare anche lui la tecnica delle velature ad olio. Lui fino a poco prima di questo arrivo della pittura d'olio con l'olio di lino che permetteva lunghe asciugature praticamente si dipingeva a tempera prima nell'epoca del rinascimento. Poi quando Leonardo provò a sviluppare questa pittura d'olio vide che usando l'olio di lino che Van Eyck aveva portato come conoscenza dalle Fiandre, dall'Olanda, vide che poté usare la tecnica delle velature con un tempo molto più lungo. E così riuscì a capire che poté fare molte, molte velature e lavorare bene il colore che prima non si riusciva perché asciugava molto velocemente. Con questa tecnica è una cosa che è importante da sapere perché aiuta a capire bene come funzionava la tecnica delle velature per sviluppare nella pittura imperialista. Perché la pittura imperialista che cos'è in pratica? La pittura imperialista non è altro che un ingrandimento del soggetto e con un dettaglio fotografico. Però la tecnica rimane quella della pittura fiamminga. Non c'è altra tecnica che la fa differenziare. Non ci sono segreti, non ci sono tecniche speciali, non c'è niente. C'è soltanto la conoscenza di l'epoca del rinascimento e della pittura fiamminga che bisogna approfondire molto molto bene se si vuole dipingere un quadro imperialista. Perché se voi fate caso bene al nome, la parola iperrealista vuol dire, iper vuol dire grande e realista rimane la coppia del realismo. E quindi con questo tipo di corsi io ho iniziato molto tempo fa in cui ho iniziato a insegnare la tecnica della grisaglia che è una tecnica fondamentale che si usava nell'epoca del rinascimento che permetteva ai pittori di creare un chiaroscuro, un volume, prima di studiare il colore. E questo è un corso a cui tengo, un tema a cui tengo molto particolarmente perché questo aiuta a sviluppare tutta la pittura a velature e quelle per realista. E da questo modello di queste conoscenze ho approfondito con i miei allievi e con chi vorrà seguire i miei corsi la tecnica antica delle velature dei principi che usava Leonardo da Vinci.